Ecco qua, poi metto la spina, la corrente, tam tam, avasso, ecco la spina, la 300 forza, ecco qua, eccoci qua, buongiorno signor dottor Belva Umana, si sega nella sua poltrona preferita per vedere i massacratori della polizia, voi mi forse può piacere alla televisione, ecco, si accomodi, vede, proprio così eh, mi raccomando, si accomodi dottor Belva Umana. De Simone, maledetto, da dove esco io? Scusi, arrivo, vuole uscire di qua, commissario? No, escono direttamente al tubo di scappamento, disgraziati, maledetti, inetti, imbecilli e stupi. Caro Frecchia, ha visto? Servizio fino a domicilio, poi si lamentano che la polizia italiana non funziona, noi proteggiamo i veri cittadini e lavoratori come lei. Arrivederci Frecchia, eh, buona giornata. Commissario, dalla centrale è urgente. Vengo. Eccolo, è Frecchia, ve lo dico io quando dovete buttare il cacao. Ehi, Frecchia! Frecchia, ma dico, è sordo? Ma è più rimbambito del solito lei oggi. Venga con me, che ho giusto bisogno di lei. Avanti, venga. Fermi, fermi, fermi! Eccono rimbelli. Qui è il commissario Auricchio. Qui è il commissario Auricchio, che facciamo? Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei? Balliamo, c'è la musica... Ribadisco che sei uno stronzone e sei pure ricchione. E si muore, che mi guardi se prima con la faccia da ebete! Questo mi stai dicendo a me, balliamo, è da bo... Ballaci tu, parlaci tu! Pronto? Commissariato di polizia. Pronto, qui centrale. Chi sta chiamando? Ha funzionato. Mannaccia la miseria. Ha funzionato. E com'è che a te fuggirò sempre tutto, a me non fuggire niente? Calmo, stai calmo. Sono Auricchio. Sei grande quando dici che tu ami un'incosciente. Signorina, mi porti subito alla posta. Eh sì, dottor. Lei, Fracchia, aspetti qui un momento. Cacao. 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 Dove va la belva umana? Sempre più fifone, eh, caro Fracchia? Benissimo. Adesso non abbiamo più neanche il coraggio di affrontarla, o ce la squagliamo addirittura. Altro che belva umana. Lei è una merdaccia, mio caro. Che paura che mi ha fatto. Guardi, mi ha fatto tremare tutto il sottanino. Ma vada piuttosto dal direttore. Vada e non lo faccia arrabbiare. Se sbrighi, su, se sbrighi. Sa comodi, Fracchia. Fracchia, siccome ormai tutti sappiamo che lei è un mediocre, ma cosa dico mediocre? Lei è la quintessenza della mediocrità. Eh, no, giusto. Se sbaglio mi corregga. Lei tace, quindi ha consente. Lei è un mediocre. E siccome dobbiamo lanciare un prodotto al cioccolato che soddisfi un po' il gusto del consumatore medio, che vorremmo chiamare il sempliciotto, ecco, lei che è un mediocre, li assaggerà tutti e ci dirà quale le piace di più. No, grazie. Io odio al cioccolato. Fracchia, lei qui non si trova ad un party dove può rifiutare. Lei assaggia. Le consiglio di non insistere. Io le ordino di assaggiare il sempliciotto. Glielo ordino. Avanti, prenda, apre la bocca. Direttore, direttore. Santo Dio, direttore. Su, su, che è successo? Direttore, direttore, ma chi è stato? Fracchia, ma che ha combinato? È diventato matto. Eccolo, eccolo. Sta uscendo. Pronti. Giù, ora. Porca miseria. Si è spezzato il... Aspetti un attimo, eh. Signor Belva, parla a togliere la corrente. Così, un attimo, eh. Aspetti. Scusi, eh. Eccomi qua. Adesso unischi i tuoi figli. Non ci arrivo. Ecco, un punto sulla sedia di tanti non c'è nessun pericolo. Torta la corrente non c'è proprio nessun. A rivederla, signor Belva. Torna dentro. La faccia da deficiente che hai. Io? Perché abbiamo la stessa... Non lo guardi. Volevo dire... Io solo la faccia da deficiente. Allora ti vedo tutto, stronzo. Sì, benissimo. Quello. Quello di... Ah, questo. Oggi lo usi tu. Ah, sì, certo. Perché mi devi sostituire. Ma me l'ha già detto. Io non voglio farmi vedere da mia madre il giorno del suo compleanno con questa faccia. Con quei brufoli. Hai capito? Ma non ti illudere, sai. Io vi dito dentro. Perché fra due ore io sarò completamente guarito. E se sgarri... Vedo che comincia a capire subito il mio linguaggio. Veramente l'ho capito subito. Va da lei. Sì. Fai tutto quello che ti chiederà. Tutto, tutto. Accontentale in tutto. In tutto. Anzi, comprali dei fiori. Fiori, sì. Zocari di Sicilia. Ricorda, eh? Bene, zocari di Sicilia. Zocari di Sicilia. Zocari di Sicilia. Dunque, zocari sì. Dunque, zocari di Sicilia. Vai! Ah, sì. Perché mi chiude il fioraio. Arrivederla. Ciao. Perché piangi, piccolino? Aspetta, piacchiamo tuo padre, eh? Brutto, cattivo. Guardi che il bambino... Così ti impari a far prepotente con i ragazzini. Ma il fioraio... Ma il fioraio... Così impari a maltrattare le signore. Ma chi dà fastidio a lei, vecchia, alle signore? Buongiorno, signora Taki. Tanti auguri... Tanti auguri... Tanti auguri... È permesso? Non c'è nessuno? No. Vengo! Che è? Vengo! Nado a làso! Nado a làso, dandari! Nado a làso! Amo cozza, damo! Nado a làso! Nado a làso, dandari vengo! Noska pari! Figlio, figlio mio, non ho trovato da stare! Le zagare! Le zagare mi ha portato il figlio mio! Chi è sta vecchia? Che belle! Sono profumate! Che bella figura ci ha fatto in trovato! Aiuto! Vecchio! Sto caglio, non ci farei male alla bestiola che è ancora a cucciolo! Sciò, sciò! Via le saccuccia! Oh figlio mio, ma voglio coccolazzare io bello, bello sto figlio mio! Benedetto! Ma che fai? Dove è andata la pantera nera? Ma la pantera figlio! Me lo giungo la signora Preccia! Non lo giungo figlio mio! Vecchio, come sei buono oggi! Tutto ti lasci fare? Tutto mangiasti? E pure lo pastrocchio di cioccolata volesti? E per la gioia da mamma? Tutto quanto lo traganna? Senza panna? Certo! Bravo questo figlio mio! Bravo! Ancora figliozzo, ancora! Dormi, dormi figlio santo! E la mamma sta qui accanto! Mangio tanto lù figliozzo! Che ora bravo! Paolo Tuzzo! Indicesto fusti figlio mio! Ci pensa mamma tua a liberarti lo pancino! Figlio! Abbia pietà! Che temperatura è? Cattu cattu lo vici! Cattu cattu! Che consensione stupido! Tutto si va a fare dalla mamma sua! Tutto! Guarda figlio, per non fatta male pure l'olio ci ha mesi! Grazie! C'è pronto, figlio! Pronto! E' inciato? Tutto! Alto alto, lo misi così la pressione è bella fotte! Bella fotte! Apro! Apri! Apri! L'orecchio! No, figlio, no! Non te la fa gustare! No! No, non è vero dagli orecchi e figli! No, no, no! La tossa piccesti! La tossa cavallina! E mamma te la fa passare! E' calda? E' appena tiempi, figlio, te la fa bene! Oh! 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 E' un'attesa che torna troppo da... No! Oh! Come... Mi fa bene a me! Mi fa molto! Molto bene!